Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Sono Maullo941 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio della nostra serie di Minecraft Allora signori, oggi, oggi cosa faremo oggi? Oggi andremo in esplorazione Dopo qualche video in cui abbiamo cercato di sistemare qui la nostra casa fluttuante Oggi andremo un attimino in esplorazione signori Perché abbiamo bisogno di ferro, di carbone, che anche quello sta scarseggiando E di altre risorse primarie Intanto io vi ringrazio signori per il supporto che state dando alla serie La state seguendo, mi fa piacere, ci sono le visualizzazioni E mi fate morire con i commenti signori Io ringrazio soprattutto Aaron che ieri con il suo commento delle mucche volanti e della luna mi ha fatto morire Lo ringrazio tantissimo per il supporto e per la simpatia Allora signori, prima cosa Recuperiamo questo grano che ci servirà per far panini signori Io ho fatto riprodurre le mucche prima di iniziare il video Così loro intanto continuano a crescere e noi avremo sempre più carne e più mucche Come se non ci fossero domani Poi, allora intanto andiamo qui Recuperiamo, posiamo questi semini e recuperiamo tutto il grano Signori che dobbiamo cercare di fare 21 Perfetto, ci vengono abbastanza panini e sono quelli che a noi servono Poi se non ricordo male qui dovremmo avere anche una mela Che ci portiamo dietro Noi non abbiamo cibo signori, abbiamo l'unico cibo che vedete è quello che abbiamo lì Non abbiamo nemmeno carbone Quindi siamo proprio messi male Anche un discorso di torce Però dobbiamo cercare di farci andare bene quello che abbiamo signori E cercate di ottenere più risorse possibili Ci riusciremo? Penso di no Però, 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 però La speranza è l'ultima a morire signori La speranza è l'ultima a morire Anche perché noi stiamo morendo di fame E questo non è una cosa buona Ma potremo ammazzare delle pecorelle che ci sono qui vicino? Sì, lo potremo fare Lo faremo? No Perché vogliamo rischiare la morte tutti assieme Abbiamo sette panini E li utilizzeremo tutti signori Intanto io direi, sta mela ce la mangiamo subito Così recuperiamo quei tre cuori E non se ne parla più Recuperiamo Non abbiamo recuperato Un par di ciufoli Non abbiamo recuperato Allora, dammi un panino Uno, un panino Devo recuperare un po' di vita signori Dammi un panino Lo mangiamo guardando il cielo Ok Quel pezzo di carne ce lo salviamo Come se fosse la nostra ultima speranza Una cosa che dobbiamo fare Abbiamo della pietra? No L'unica pietra che abbiamo è quella lì Dobbiamo farci degli altri strumenti Va bene che la pietra la possiamo recuperare Andando in miniera Però dobbiamo farci un altro piccone di pietra E ce la portiamo dietro E ascia non ce ne dovrebbero servire La, 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 come si chiama? La, 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 la Gartin Devil Ce l'abbiamo? Va bene Allora, visto che quel pezzo di carne Ce lo dobbiamo salvare in caso di estremis Mettiamo i panini qui a portata di mano Ne abbiamo sei Abbiamo paura di usarli? Sì, perché moriremo male Qui dobbiamo sistemare questa pozza Ma non oggi Non oggi signori La sistemazione della casa Questo riguarda la sistemazione della casa E verrà fatto un altro giorno Oggi partiamo in esplorazione Abbiamo creato questo buco E andremo proprio di qua signori Non ci, non andremo a cercare caverne Grotte, grotticine Cose brutte Abbiamo questo buco E lo sfrutteremo fino all'ultimo centimetro Anche perché ricordo Che sto per vomitare in maniera brutta Sta scala è terribile Ok, siamo arrivati Allora Io ricordo che da Questa parte non c'era nulla di interessante Potremmo scavare Ma non mi sembra che ci sia niente di che E rischeremo solamente di perdere tempo Di qua invece c'era qualcosa di interessante Tipo uno zombie di là Che già ci sta appuntando a male Dico io Non ti puoi farlo a fare i tuoi zombie Quanti siete? No, è uno solo Ok È caduto da là sopra Quindi vuol dire che Non hai pagato il biglietto zombie Non puoi passare da lì Quindi stati fermo lì dove stai E non rompere le scatole Quanto durerà questa avventura? Non lo so signori Non Non ne ho Precisamente Idea Però Che caso Stai piante Mi stava a cacare in mano Signora Non capivo che cosa erano questi rumori Allora Di qua se non sbaglio L'altra volta siamo andati Ma non ci siamo Allontanati più di tanto Ok Questo non ci serve Il Il rame Al momento non ci serve Signori Qui abbiamo il carbone Che abbiamo lasciato l'altra volta E meno male che l'abbiamo lasciato A sto giro lo recuperiamo tutto I sogneri Perché è inutile continuare a lasciare qua Noi abbiamo bisogno di carbone Per le torce Per questa spedizione E ce lo raccogliamo tutto Come se non ci fossero domani Troveremo un diamante a questo giro Non penso Non penso Siamo a livello 30 Se non sbaglio Dovremmo scendere a livello Meno 50 E non siamo signori Minimamente attrezzati Per andare alla ricerca di diamanti Li cercheremo Ce l'ho messo io sto blocco lì Non mi ricordo proprio Sapete? Penso di sì Penso di sì Ma non ricordo quando Come dove Perché Allora Schiaiamo la voce E io direi Proviamo ad andare di qui Cioè Cazza Allora Sono cascato nell'acqua Tutto quello che dovevo fare Non era questo Mi metti una torcia Perché io ci ho paura del buio Grazie Gentilissimo Di qua Mi fai capire un attino Di qua si sale Ok Ma noi non vogliamo salire Questo è una cosa chiara Che abbiamo in testa Noi Torcetta qui Grazie Di lì è tutto chiuso Di lì ci possiamo andare Però di lì forse Si muove la caverna Mi sa che è finita Pure qua questa Porca miseria È finita Tutto Tutto qua era Cioè io pensavo Chissà che cosa È finita Tanti cari saluti Tanti cari saluti Gentilissimi Ok Va bene E allora qualcosa mi dice Che dobbiamo provare A salire Per dove Si è lanciato lo zombie Signori Ci proviamo Ci proviamo Vediamo se riusciamo A non vomitare Soprattutto Perché sto vomitando Riesce a salire Pazzino Ok Proviamo a salire Di qua Ma è È l'unica strada Vediamo se ci porta Da qualche parte Signori Vediamo se ci porta Da qualche parte Lo speriamo Certo lo zombie È arrivato di qua Quindi diciamo Che una strada Da qualche parte Qui ci deve essere Qualcosa mi dice Di no Proprio Proprio in maniera Sicura e decisa Non c'è un tubo Di niente Signori Non c'è nulla Che buco dell'acqua Sta 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 situazione Va bene Ma noi non ci scoraggiamo Ci scoraggiamo No Siamo dei tipi Che si scoraggiano Assolutamente no Assolutamente no Torniamo Alla nostra Imboccatura Della Da cazzo Rolaera Perso L'entrata Della mia grotta Da dove cazzo Siamo arrivati Noi Non siamo arrivati Di là Di là Siamo arrivati Qui dove abbiamo Recuperato il carbone Mi sono pezzo Signori Una grotta Di 10 metri Quadrati E mi sono perso Ok Ok Ah ok Perfetto Avevo sbagliato Di là c'è qualcosa No C'è sta il pipistrello Che pipistrella Ma a noi non ci interessa Il pipistrello Che pipistrella A noi interessava Una grotta Decisi Senza Senza paura Scendiamo Qualcosa troveremo Porca miseria Dobbiamo trovare qualcosa Non 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 possiamo Ecco Abbiamo trovato Che abbiamo perso Il piccone Iniziamo a scendere Signori Potevamo andare a cercare Una grotta Qua vicino Per cercare Un'esplorazione Più semplice Sì Ma a noi piacciono Le cose semplici No Scaviamo come se non ce fossero domani Signori Gravel Che a noi non ci serve a nulla Io posso mettermi le torce Qui E così Faccio un colpo di E siamo più veloci Perfetto Perfetto Molto interessante Molto interessante Qualcosa Qualcosa l'abbiamo trovata Qualcosa l'abbiamo trovata Dobbiamo solamente trovare Il modo di scendere E non è Non la vedo abbastanza Per nulla facile Anche perché stiamo perdendo Il piccone Che si sta Definitivamente Distruggendo Però Per fortuna Abbiamo i materiali Per costruire un altro E non perderemo tempo Mettiamo la torcetta qui Qualcosa l'abbiamo trovata Qualcosa Abbiamo trovato L'oasi Signori Abbiamo trovato l'oasi Abbiamo semplicemente Oh E abbiamo trovato anche il ferro Meno male Meno male Questo è importantissimo Signori Aver trovato questo ferro È importantissimo È importantissimo Siamo completamente Accorto di ferro E questa cosa Non è per niente buona Perché non possiamo farci Gli strumenti Che ci possono servire Ora aspetto un attimo Che qua abbiamo Creato un patatrack Lo sapevo io Che succedeva questo Allora Carton Devil qui Speriamo che non ci siano Mostri che ci aspettano Facciamo due picconi Perché non abbiamo Ferro per poter Farne in ferro Quindi prepariamoci Già due bei picconi In pietra Ok Carton Devil Recuperata Dacci un enderman Che dobbiamo evitare Di vedere Che è impazzito Ma se io lo guardo Che succede Che mi ammazza Che cosa può succedere Se lo guardi Devi evitare Infatti di guardarlo Recuperiamoci Questo ferro Signori E ci sistemiamo La scaletta E ci sistemiamo La scaletta Io però lo voglio guardare Quell'enderman Signori mi dispiace Sarà la cretinata Più cretinata Che possiamo fare Ma io quell'enderman Lo voglio guardare Lo voglio guardare Mi devo vendicare Dell'altra volta Signori Mi devo vendicare Dell'altra volta E voglio la La prima enderper Secondo me appena Mi giro Che finisco Di fare qua Tutta la zona Di lavoro Ok Guardami 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 Vieni qua Zio Vieni qua Cucciolo Cucciolo Vieni qua Ti voglio bene Vieni qua Perché non viene Io lo so Che erano vicino E lui Ammazza Io lo so Che lui Ammazza C'ho paurissima C'ho paurissima Perché l'ho guardato Qualcuno mi dice Perché l'ho guardato Qualcuno mi dice Perché l'ho guardato Lo sapevo io Lo sapevo io Lo sapevo io Che c'era il trucco Lo sapevo io Che c'era il trucco Ma io dico Mamma Chi mi ci porta Chi mi ci porta Chi mi ci porta Chi mi ci porta Mannaggia a me Mannaggia a me Mannaggia a me Mamma Chi mi ci porta Ma porca miseria Ma porca Mi ha fatto la finta Stava lì fermo il creeper Perfetto Speriamo che il creeper non mi vede Perché se mi insegue qui nella caverna Siamo morti tutti e quattro Perfetto Perfetto Ma porca miseria Ma a me Chi mi ci porta? Chi mi ci porta? A guardare l'enderman in faccia Dico È il momento di sfidarlo per l'enderman No No Avevamo recuperato del ferro Avevamo recuperato del ferro Mannaggia a me A chi non me lo dice pure Torniamo ragione dall'osi Dai 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 Quanta testa sta sbattendo Il nostro pupino sta sbattendo la testa Come se non ci fossero domani Dai 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 Scendi 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 Ok Speriamo non sia più arrabbiato con me Perché dico Mi hai ammazzato già una volta Non penso che tu Hai ancora voglia di Rompermi le scatole giusto? Lui è sempre lì Mi fa più niente? No Si fa e fatti i suoi signori Si fa e fatti i suoi E noi ci facciamo i nostri Noi ci facciamo i nostri bellissimi Tranquilli Tutti carini e coccolosi Perfetto Non chiedetemi Non lo so Non lo so Allora Il nostro unico pezzo di carne Lo lasciamo qua Cosa abbiamo perso? La spada è qui Un piccone è qui Ci manca un piccone La pietra Il pane Importantissimo Lascia Questo via Le torce Qui L'acqua Il ferro Il ferro grezzo Ok ho avuto Povero che abbiamo perso il ferro grezzo Se mi siamo perso il ferro grezzo Potevo dare di matto Però va bene Dai Super giù Abbiamo solo perso la crafting table La crafting table Come l'ho detto L'ho detto proprio male La crafting table Mi sa di si Mi sa che la crafting table L'abbiamo perso Mamma mia di lì Come si scende Di lì si scende tanto Allora E Si Ah no Il piccone l'abbiamo recuperato L'altro piccone l'abbiamo recuperato Non abbiamo più la crafting table Vabbè Non è un problema Non è un problema Intanto signori Siamo all'oasi Con il nostro enderman Che ci guarda Che ci guarda da dietro Che noi non guarderemo più Perché abbiamo imparato la lezione Siamo all'oasi signori Abbiamo raggiunto l'oasi Bene Allora Io ho già visto Del ferro là Che ci serve Come il pane Poi ci servirebbe anche Mettere delle torce Che non sarebbe male come cosa Eh la crafting table Ok Mi ho ricordato anche la crafting table Signori Ricopriamo pure questo ferro di qua Che è questo Ci serve Ok Sento Sento dei rumori strani Il pipistello Sono quegli animaletti Che vivono qua Nel Nell'acqua Delle pozze Di ste cose Aia Aia No 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 Ma tutti Io li becco Ma tutti a me Devono rompere le scatole Giusto quando non c'è Un'armatura Nel niente Ma porca di una miseria Ma non vi potete fare I fatti vostri Guarda dove Guarda dove Aia Aia Devi morire però Zio Devi morire Oh Ok Ok E lui l'abbiamo ammazzato No Guardate cosa c'è là Signori La cosa La cosa Come si chiama La 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 cazzarola Come si chiama Il geode Abbiamo beccato pure il geode Signori No Spettacolo Spettacolo Fantà Spettacolo Spettacolo Sì però Bello Tutto bello Tutto carino Ma noi Stiamo cercando Fondamentalmente Intanto aspettate Intanto Scusatemi Tutto questo Io non so Minimamente Però dove sono Finito Io Nel senso Dove era la mia Entrata La mia grotta di entrata Chi lo sa Pidiamo qualcuno Di questi Me lo fai Pidiamo Perché se non ricordo male Queste si possono mangiare Quindi potrebbero essere Delle ottime fonti di cibo È vero Dimmi che me lo posso mangiare Questo Non mi daranno nessuna vita Ma dimmi che lo posso mangiare Sì La possiamo mangiare Va bene Va bene Intanto recuperiamo cibo Signori Recuperiamo cibo Che è importantissimo Poi Questo debba essere Il muschio Il blocco di muschio Con questo possiamo allargare Il muschio a casa nostra Quindi un pochino Così randomico Lo prendiamo Che non si sa mai Nella vita E io però Per non sapere Nel leggere Nel scrivere Signori Dopodiché però Questo video per oggi Lo chiudiamo qui L'esplorazione di questa Cavernona enorme La continuiamo domani La continuiamo domani Nel prossimo video Vorrei mettere delle torce Da dove siamo arrivati noi Perché sennò Io mi perdo Veramente E la cosa Non è per niente Ciò che vogliamo È giusto È giusto Allora io sono arrivato Da qua Può essere Sì Io sono arrivato Da qua Signori Quindi mettiamo Delle belle torce Qui No Abbiamo detto Delle torce Quindi Delle torce Delle torce Qui Una qui E una qui Ci troveremo La nostra strada Non penso proprio Però Ci proveremo Ci proveremo L'enderman è ancora là Che passeggia Signori Detto questo Io vi ringrazio Per la visione di questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per il supporto E per tutto Noi ci vediamo domani Nel prossimo video In cui con calma Capiremo come esplorare Questa caverna Bella raga Ciao